2.400 iscritti, quasi 250.000 euro erogati nel solo 2017, una prospettiva di ampliamento delle prestazioni. Questi alcuni dati del bilancio della Cassa Solidarietà aziendale Luxottica, nata nel 1996 su iniziativa dei lavoratori e presente negli stabilimenti di Sedico, Agordo, Cencenighe, Pederoba e Laureano in provincia di Torino. Oggi la presentazione di alcuni risultati di questo sistema di welfare parallelo e complementare rispetto a quello aziendale. In oltre 20 anni di attività la Cassa ha erogato contributi per il rimborso di prestazioni sanitarie, ausili per la disabilità, spese universitarie, integrazioni dell'assegno di maternità e molto altro per un valore complessivo di oltre 2,4 milioni di euro. La quota associativa è di 10 euro mensili, pagati per un terzo dall'azienda. Nei 120 euro annui sono comprese anche le spese per i familiari a carico, che sono circa 2.300. Basti pensare che solo per gli apparecchi ortodontici, spesa impegnativa che riguarda spesso e volentieri i più piccoli, nel 2017 sono stati erogati contributi per 29.000 euro. Dal 2018 al listino delle prestazioni si è aggiunto anche il contributo per spese funebri. Nonostante la grande varietà di prestazioni e la Cassa importanti scorte finanziarie, il lavoro svolto dal 1996 in poi ha consentito di accumulare circa 700.000 euro, cifra che per metà è vincolata a interventi straordinari di carattere solidaristico.